Sì, grazie Presidente. Nei giorni scorsi il Tar del Lazio ha annullato le elezioni amministrative del Comune di Latina, che è il secondo Comune del Lazio. Non sono state ravvisate delle irregolarità formali, questo scrive il Tar del Lazio nella sentenza, ma gravissime violazioni che hanno inciso sull'esito del voto. In questa sentenza si leggono cose molto preoccupanti. Si fa riferimento alla prassi della scheda ballerina, che è la scheda che viene utilizzata per non solo trovare il modo di condizionare il voto, ma anche quello di controllarlo. Perché è la scheda che viene data all'elettore già prestampata prima dell'ingresso nell'urna. Un fatto molto grave. E se a questo associamo, Presidente, i comunicati che sono usciti anche da autorevoli esponenti del Partito Democratico, perché il coordinatore regionale del Lazio, del Partito Democratico, ha portato la solidarietà al sindaco decaduto per queste gravi violazioni. Ora, io capisco che l'avversione al voto diventa anche l'avversione al controlli sul voto, però tutto questo è molto grave, che avvenga appunto in una città importante, ma è grave in assoluto. E quindi per questo noi chiediamo che il Ministro Lamorgese venga a riferire al più presto su questo caso gravissimo, perché non vorremmo, Presidente, come accade normalmente nel Lazio, che tutto questo poi venga insabbiato, perché abbiamo visto insabbiate le inchieste sui 14 milioni spariti per le mascherine, abbiamo visto insabbiato con Corzopoli, cioè l'utilizzo di fare un ufficio di collocamento in quelle di Allumier per tutti gli esponenti del Partito Democratico, gli amministratori del Partito Democratico, insomma registriamo una tendenza a insabbiare fatti gravi. Questo fatto è gravissimo e per questo noi chiediamo che il Ministro Lamorgese venga urgentemente a riferire in Aula. Grazie. Grazie. Grazie.